Prima sono stati installati i New Jersey spartitraffico, poi sono stati rimossi, travolti da un'ondata di polemiche di residenti, di dibattito politico e soprattutto da una retromarcia imposta dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle marche. Ora però, sulla strada delle Siligate, il muro spartitraffico potrebbe essere ripristinato. Questa perlomeno è l'intenzione dell'ANAS che ha deciso di ricorrere al Tar di Ancona per reinstallare le barriere. Un monta e smonta che è diventato una telenovela andata in stallo per due mesi ma che ora è tornata ad accendersi con un contenzioso circoscritto fra la stessa ANAS e la soprintendenza. L'ANAS era stata incaricata di trovare una soluzione che migliorasse la sicurezza stradale e dal 21 gennaio aveva cominciato a innalzare lo spartitraffico con relativo restringimento di carreggiata. A fine febbraio però è arrivato lo stop della soprintendenza che ha richiesto l'avvio di un procedimento di autorizzazione paesaggistica che ha sospeso i lavori e portato alla rimozione dei New Jersey a inizio marzo. Un dietrofronte applaudito dai residenti che lamentavano grossi disagi dovuti all'effetto impattante del muro ma anche da associazioni ambientaliste che sottolineavano i gravi danni all'incolumità degli animali selvatici. Il sindaco Ricci si mostrò invece molto critico per il naufragio di una soluzione pensata per la sicurezza pubblica e sulla quale ANAS aveva investito oltre un milione e mezzo di euro. Comune di Pesaro che ora si estragna nella disputa in tribunale fra ANAS e soprintendenza. Il centrodestra in consiglio comunale, a cominciare da Michele Redaelli, aveva invece sollecitato la rimozione e ora auspica che l'ANAS desista da questo percorso giudiziario.